Salve a tutti amici, sono Paolo Fiat, sono qui dietro la telecamera e oggi voglio far vedere un lavoretto che faccio in questa piccola prodina qua che ho praticamente fresato prima, adesso mi prendo una ciorastrella e poi vi parlo ho fresato, appena adesso l'ho fresata, cosa ci ho fatto? sono andato a togliere un po' di erbe che c'erano cresciute ovviamente che erano cresciute e poi sono andato a fresarla, questa terra qui una volta che sono andato a fare una fresatura a venire, una fresatura a tornare cosa vuol dire? vuol dire che ho fatto una fresatura in tutti i sensi quindi prima sono partito fresando da là in fondo a venire avanti qua e poi da là a qua nel frattempo che facevo questa doppia fresatura qui perché comunque era un terreno abbastanza fermo questo qui come possiamo dire abbastanza fermo, era fermo da quando ho piantato il frumento il grano quindi il frumento l'anno scorso e quest'anno voglio rimettere il frumento qui perché qui è venuto veramente bene il frumento e poi è l'unico posto che non ci metto niente perché davanti alle api qua non ci metto niente quindi ci metto il frumento potrei mettere fiori per le api ma purtroppo non ho mai avuto buoni risultati con i busti che comprano per i fiori per le api ecco sono tante quindi ho rifiutato spero che mi sentiate bene allora vi dico che pianterò il frumento quindi 180 varietà di frumento che ho qui che adesso ve lo faccio vedere scusate che appoggio l'astello con un attimo livellato quindi ho fatto preparazione del terreno, fresatura, ho messo un secchio di compost più o meno non lo vedete il secchio ma comunque un secchio più o meno di compost e poi ho fatto l'altra fresatura adesso seminiamo e poi fresiamo di nuovo vi faccio vedere il frumento che ho qui queste cose sono sono è un frumento di 180 varietà guardate guardate qui ne ho parecchio ne ho ancora che mi conserverò in in freezer lo metterò via scrivendogli la data e anche altre cose ecco facendo così questo praticamente è un frumento di 180 varietà antichissimo frumento antichissimo che praticamente ci sono due ci sono due varietà cioè ci sono due tipologie dentro di di annata cioè la 2020 e 24 mi era 2023 c'è anche all'interno qua ecco perché una c'avevo in freezer vecchia quindi l'ho mischiata con quella dell'anno scorso che ho raccolto qui adesso noi cosa faremo andremo a seminare a spaglio quindi faremo una semina molto una semina molto fitta perché quello che ci avevo messo via in congelatore che nel freezer diciamo così possiamo dire che avevo preso dalla semina che era stata fatta nel 2023 non qui da me quindi era la prima semente che io ho preso ecco diciamo che non sono sicuro non sono sicuro che nasca tutto perché era stato conservato male diciamo prima che l'ho che la prendessi io diciamo era stato conservato possiamo dire in era stato conservato male quindi aveva fatto c'erano tutte le farfalline della farina diciamo che l'hanno punzecchiato quindi non sono sicuro che nasca tutto per quello sto seminando e poi comunque sicuramente questo qui non è certificato non sono semi che comprate i consorzi quindi sicuramente non nasce tutto ecco voi mi dite che ne ho seminato troppo però comunque anche l'anno scorso ne ho seminato tanto e non è cresciuto e non è nato tutto quanto perché poi questo qui è un frumento che fa spighe alte spighe basse quindi possiamo ben capire che ci sono varie tipologie diciamo quindi magari ci sono degli anni in cui fa tanto vento pioggia si alletta quindi potete ben capire che ci sono diverse tipologie quindi questo è la semina ovviamente questo pezzettino qui è una parcella giusto per tenere continuamente la semente poi se un giorno avrò semente magari dell'anno prima semente dell'anno dopo che ne avrò parecchia semente magari posso anche decidere di andare a seminare magari una parcella più grande diciamo che comunque posso sempre trovarla un pezzo più grande diciamo di frumento il frumento va raccolto a luglio fine giugno prima di luglio perché questo qua è un frumento che va più lungo diciamo l'anno scorso l'avevo raccolto a luglio diciamo se non mi sbaglio prima di luglio mi sembra adesso io vi ho fatto vedere come ho preparato il terreno ve lo dico velocemente poi vi faccio vedere la fresatura ho messo ho fatto la prima fresatura poi ho messo il compost e poi ho fatto la seconda fresatura prima di fresare ho tolto qualche qualche erba che c'era erba che comunque col freddo di questi giorni è andata a seccare quindi l'ho tolte ma comunque è un terreno che era a riposo ecco e basta ecco dopo aver fatto la fresatura abbiamo seminato abbiamo seminato abbiamo interrato del compost abbiamo interrato il compost con la seconda fresatura abbiamo interrato del compost maturo di un anno un anno e mezzo di compost vegetale ovviamente fatto da scarti vegetali che avevo in compostiera il neomi che ovviamente è stato setacciato quindi era compost finissimo l'ho messo ho fresato per la seconda volta e poi abbiamo seminato abbiamo seminato qui adesso questa varietà qua di 180 varietà di frumento e quindi grano che praticamente sarà il food sarà ovviamente per tenere la semente vedremo poi negli anni successivi se seminare un pezzo più grande se fare ovviamente magari una parcella più grande qualche altra parte comunque vedremo sicuramente queste cose qua ecco intanto intanto comunque qua sicuramente qui se nasce tutto o anche se nasce a metà la semente la semente ce la portiamo sempre avanti quello che che è avanzato di questo qui che comunque era un miscuglio della varietà di quest'anno più la varietà cioè era il miscuglio della varietà raccolta quest'anno più la varietà dell'anno scorso quindi due annate differenti comunque le ho messe insieme con questo più quello che ho a casa sicuramente riusciamo a seminare anche qualcos'altro in più ecco se ci vuoi adesso seminarlo in autunno produce di più diciamo è più stabile la pianta fa la radice più forte fa tutto più forte però se no posseremo seminarlo possiamo provare a seminarlo anche a febbraio ecco senza comprendere sicuramente a febbraio se fa le primavere con qualche pioggia rellina ce la farà benissimo se invece fa una primavera secca non riusciamo a farla ecco adesso io mi fermo faccio la frezzatura qui faccio vedere la piccola frezzatura niente da poi lo fiat è tutto niente ora fresiamo interriamo tutti quanti i nostri semi poi un colpetto di rastrello per livellare il tutto e aspetteremo che germini da solo da poi lo fiat è tutto